Un po' di succo per Ronny? Un po' di proteine per Ronny? Sono a Los Angeles, cerco casa e provo ad andare avanti. Vorrei andarmene da Las Vegas perché stare lì non fa bene alla mia riabilitazione. È la prima volta che uso il frullatore senza rovesciare qualcosa. Fantastico. Non vedo Ronny da un po'. Neanch'io. L'ultima volta che l'ho visto non se la passava bene. Occhio nero e tutto il resto. Io e Vinny siamo a Los Angeles in cerca dell'amore. Andremo a Double Shot at Love. Pare che Ronny sia da queste parti e è uscito dal rehab. Gli do il mille per cento di credito. Assolutamente. Per essere andato. Ehi! Due asini! Come va? Ciao amico, come va? Mi piace il tuo Airbnb. Abbiamo mostrato a Ronny un po' di affetto. Dobbiamo dirgli come ci sentiamo. Quanto puoi sopportare? Ti stai facendo prendere a calci nel culo. Quindi è importante che ora sappia che siamo fieri di lui, che ha fatto bene a chiedere aiuto. Andiamo fuori? Sì, andiamo fuori. Peccato non si veda la città. I capelli sono a posto, vuol dire che stai bene. Sì. Ricordi? Quello è l'indicatore. Sì. La prima impressione è quella che sia un nuovo Ronny. Nuovo spirito, nuovi vestiti. Come se fosse... Ha denti nuovi! Porca c***a! I denti! I denti! 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 Denti, denti, denti! Come stai, amico? Sto bene. Mi sento benissimo. Bene? Molto bene. Il trattamento è durato 30 giorni. Mi serviva. C'era troppa c***a nella mia vita. E apprezzo che voi... Cioè, mi abbiate parlato e ci siate stati. C'ero dentro e non vedevo cosa succedeva. Mi sono preso un momento. Ho dovuto farlo per me e per la bambina. perché le decisioni che prendevo non erano quelle che deve prendere un padre. Capite? Mi sento una persona diversa da quando sono andato in rehab. Sto molto bene. Sento che voglio stare con gli altri e che voglio mostrare loro che sono tornato chi ero. Sono felice di sentirlo. Grazie. Adesso che farai? A che punto sei con Jan? A che punto sei con Jan?